Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Punti di vista compie dieci anni, dall'alluvione del 2006 alla nevicata del 2012, dai faccia a faccia elettorali ai lavoratori intervistati lungo un corteo. Punti di vista il talk show delle marche, i fatti, le inchieste, le opinioni, i personaggi. Punti di vista decima stagione ogni venerdì dalle 21.30, solo su ETV. Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in diretta ed in contemporanea sia sulle frequenze di ETV che di Radio Center Music 99.100 in FM. Tra poco le notizie di livello marchigiano, di livello locale, ma non possiamo non accennare in apertura a quanto sta succedendo a Palazzo Madama, al Senato PDL a pezzi. Allora Berlusconi ci ripensa, poco fa proprio Berlusconi intervenuto a Palazzo Madama ha detto sì alla fiducia pur con Travaglio. Il Cavaliere dunque si arrende dopo la fuoriuscita di 25 senatori pronti a votare pro governo in seno al PDL. Dunque tanto tuonò che non piove, Berlusconi torna sui suoi passi e dice sì alla fiducia al governo Letta. Chiaramente poi approfondiranno i mezzi di comunicazione nazionali questa notizia. Ora le notizie marchigiane. A suo carico era stato spiccato un mandato d'arresto europeo dal Tribunale di Arad in Romania per guida in stato debrezza. Reato commesso nel 2012 per il quale era stato condannato a nove mesi di reclusione. Un 42enne operaio romeno residente a loro Piceno è stato fermato dai carabinieri di Camerino. Identificato e denunciato per omissione di soccorso l'automobilista pirata che domenica ha travolto e ferito gravemente un 61enne Paolo Fiara in Corso Carlo Alberto ad Ancona. Si tratta di un cittadino romeno rintracciato dalla polizia municipale. Rapinata la filiale di Castelferretti della banca di credito cooperativo di Falconara. Come potete vedere dalle immagini se ci seguite su ETV sono entrati in azione due malviventi con volto travisato e armati entrambi di coltello, probabilmente italiani, che si sono fatti consegnare circa 30.000 euro e poi si sono allontanati a piedi. Indagini in corso. Arriva a rubare fino a diverse migliaia di euro dalla cassa della tabaccheria di uno suo amico. Ma i carabinieri di Chiaravalle lo arrestano in flagranza con 250 euro in tasca. In manette un 37enne di Chiaravalle che da qualche tempo aveva messo in fila colpi alla tabaccheria parigini. Un uomo di circa 60 anni di nazionalità romena stava per uccidersi lanciandosi sotto un treno della stazione di Pesaro ma è stato tirato via dai binari poco prima dell'arrivo di un convoglio da Ancona dal dirigente eroe del commissariato di polizia di Urbino Andrea Massimo Zeloni. Ora l'inchiesta su un'eventuale interruzione di servizio pubblico in occasione del trasferimento dei fascicoli e degli arredi del Tribunale di Camerino a quello di Macerata. L'inchiesta fa il suo corso. Le indagini riguardano il comportamento tenuto da diverse persone tra il 13 e il 16 settembre, tra i quali assistenti di avvocati che avrebbero ostacolato di fatto le operazioni. Le indagini dunque proseguono. Ora il presidio davanti alla sede della banca toscana Fabriano giovedì mattina, il gesto che darà il via alla guerra alle banche dell'ex Antonio Merloni. Intanto la disoccupazione a Fabriano, ne abbiamo parlato questa mattina anche durante Buongiorno Marche, ospite è intervenuto il sindaco Giancarlo Sagramola, la disoccupazione si attesta al 20%, il Comune approva il bilancio con l'incognita. Chi pagherà le tasse? L'aumento dell'IVA. Ora una famiglia marchigiana di tre persone pagherà 200 euro in più all'anno. Lo sostiene il Codacons dopo l'aumento dell'IVA al 22% che si farà sentire anche sui consumi, calo previsto in questo caso del 3%. Il presidente della regione Marche, Gianmario Spacca, ha incontrato i due commissari di Banca Marche, Giuseppe Feliziani e Federico Terrinoni, nominati da Banca Italia alla presenza del direttore generale dell'istituto Goffi. Un incontro utile, ha detto Spacca, perché i commissari hanno confermato il loro impegno al mantenimento della funzione di sostegno all'economia e alla manifattura del territorio anche in questa fase di gestione straordinaria. Buona notizia, è stata sospesa nelle Marche la chiusura delle sedi delle agenzie delle entrate di Fabriano e Recanati, la decisione ieri a Roma durante il tavolo con i vertici e le sigle sindacali. Ora ad Ancona, dove i manager Giuseppina Crusso, 44 anni, Foggiana e Giancarlo Gasparini, 62 anni di Ostra, sono stati nominati rispettivamente nuovo segretario comunale e direttore generale del comune di Ancona. Li vedete inquadrati se ci seguite chiaramente su ETV. Secondo il sindaco Valeria Mancinelli, la scelta dei due nuovi dirigenti costa di più, ma è un investimento necessario. Se si vuole riorganizzare la macchina, occorre investire, ha detto la Mancinelli, in risorse per passare dalle chiacchiere infine ai fatti. Migliaia di persone hanno preso parte al funerale del vescovo di Ascoli Piceno Silvano Montevecchi, morto il 27 settembre a Monte Catone a 75 anni. Immagini che fanno riferimento ad uno dei suoi ultimi impegni pubblici, immagini che ci vengono dalla nostra redazione di Ascoli con il taglio del nastro alla presenza anche del sindaco di Ascoli Castelli. La morte con l'esito della meningite meningococcica che aveva colpito Montevecchi. Impossibile accogliere il gran numero di fedeli nel Duomo di Sant'Emidio. In molti hanno seguito il rito su un maxischermo installato in piazza a Ringo. Cambiamo ancora argomento, parliamo della carne bovina, ribattezzato l'oro bianco delle Marche. La razza bovina marchigiana sarà protagonista a Treia il 5 ed il 6 ottobre nell'ambito del quarto festival della carne bovina di razza marchigiana. Vediamo e sentiamo. L'Associazione Nuova Santa Maria in Piana dà il via al quarto festival della carne bovina di razza marchigiana. Un prodotto di alta qualità che contribuisce a promuovere il territorio all'insegna della convivialità, della cordialità ma soprattutto del buon gusto. Non soltanto il prodotto ma è il creare una comunità. Santa Maria in Piana è una piccola comunità del comune di Treia però che ha una forza interiore e comunitaria elevata che crea comunità. E' già da quattro anni che si propone questo festival perché la gente possa assaggiare, gustare un prodotto genuino della nostra regione. Stand gastronomici, iniziative musicali e percorsi paesaggistici per un'iniziativa che giunta alla quarta edizione ha da sempre richiamato un pubblico numeroso. Soddisfazione anche da parte dell'amministrazione provinciale che da anni promuove tale tipologia bovina. La razza bovina marchigiana la posso chiamare ambasciatore delle marche perché in tutto il mondo la promozione di questo prodotto, di questo territorio e di tutto quello che comporta l'enogastronomia, la valorizzazione delle tradizioni, della storia, della cultura di questo territorio crea ricchezza. Chi promuove territorio, prodotti tipici, chi promuove queste iniziative lo fa anche da volontario, quindi con uno spirito eccezionale di volontariato, non fa altro che creare opportunità ai nostri giovani e quindi crea anche posti di lavoro. E quindi va applaudita questa iniziativa, va promossa e va anche detto al pubblico, attento, che partecipando a questa manifestazione non solo potrà godere delle eccellenze culinarie, ma potrà anche contribuire alla soluzione di problemi che attanagliano il nostro paese in un momento così difficile. Ora una breve pausa, tra poco per le ultime news, vi aspetto. Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma. La nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma. Cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona. Maviaggi.com La mia azienda è nata dalla creatività. La mia impresa si è sviluppata con l'intelligenza e la passione. Confartigianato ti aiuta con il servizio Fare Impresa. Un team di operatori gratuitamente al servizio della tua azienda. Dalla fattibilità del progetto alla realizzazione dell'idea. Al credito. Vieni in uno dei 24 uffici Confartigianato della provincia di Ancona. Info su www.confartigianato.n.it Telefono 071 22 931 DG Edizione Marchigiana Ben ritrovati. In chiusura non ci sono aggiornamenti rispetto alle news locali che vi abbiamo appena dato e che trovate comunque confermate da giornate 24 ore su 24 oltre che su Facebook e su Twitter di ATV o anche sul nostro sito www.etvmarket.it Ma potete leggere nelle scritte che scorrono in sovraimpressione anche l'ultima ora di livello nazionale perché è un momento molto importante e delicato per il nostro paese. Allora ricordiamo la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione Il Popolo della Libertà scrive il Corriere della Sera.it In questo momento a pezzi Berlusconi ci ripensa con travaglio ma voto sì ha detto poco fa in aula personalmente dico sì alla fiducia Questa è l'apertura del Corriere della Sera Repubblica Berlusconi che si arrende sì alla fiducia c'è una nuova maggioranza secondo il Partito Democratico no alle furbizie momenti anche di tensione in aula ne parleranno chiaramente i mezzi di informazione nazionali è tutto per questa edizione Marchigiana di ATG in studio Maurizio Socci grazie e buon proseguimento Tocone TV e Radio Center Music Center Music FM